Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con AC News, il notiziario di Arezzo Channel che vi accompagna nel mondo dell'Arezzo Calcio con servizi, interviste e notizie sempre aggiornate. Siamo giunti all'ultima edizione di questa settimana ed è già partito il conto alla rovescia per il derby toscano che lunedì sera alle ore 20.45 vedrà l'Arezzo di Dalcanto disputare in posticipo la sesta giornata del campionato di Serie C contro il Pontedera. Attualmente imbattuta e con 8 punti conquistati in 4 giornate, l'Arezzo affronterà una squadra in salute che staziona in classifica a quota 7 punti. Uno score piuttosto simile se si pensa che anche il Pontedera come l'Arezzo ha attualmente una partita in meno rinviata in seguito alle vicende del blocco dei ripescaggi in Serie B. Dopo aver lavorato alle caselle a Palazzo del Pero in questi ultimi due giorni la prima squadra a Maranto si è allenata sul campo di Badia Alpino dove ha iniziato a preparare il posticipo contro il Pontedera. Per questa gara mister Dalcanto si trova a dover fronteggiare alcune assenze dovute non soltanto ad infortuni o problemi fisici. Ad oggi infatti l'unico giocatore ancora fermo è Benucci mentre tutti gli altri calciatori della Rosa sono a disposizione. Grandi assenti però per il posticipo saranno il difensore Marco Sala squalificato per una giornata e comunque impegnato tra le fila del torneo 8 nazioni insieme alla nazionale Under 20. Squalificato per una giornata anche Basit, i due giocatori salteranno entrambi questa partita per tornare a disposizione nella trasferta in casa della Juventus Under 23 di Zironelli. Partita che comunque potrebbe contare l'assenza di sala impegnato fino al 16 di ottobre con gli azzurrini. Diverse sono le strade che Dalcanto potrebbe intraprendere dal punto di vista della formazione per ovviare alle assenze. Con buona probabilità il modulo resterà e quello già visto il 4312 che contro il Pontedera potrebbe tuttavia vedere qualche modifica. Si aprono infatti i pronostici su chi potrà ricoprire il ruolo affidato nelle ultime gare a Basit in ballottaggio Foglia che lo ha già ricoperto nella situazione d'emergenza generatasi a Siena. Buio con lo spostamento di Serrotti nella linea a tre e di Belloni sulla tre quarti. Oppure Tassi una scelta quest'ultima che permetterebbe a Dalcanto di non apportare grandi stravolgimenti all'undici titolare sceso in campo al Franchi fin dal primo minuto. Resta sicuro in attacco Capitan Cutolo mentre si propone nuovamente il duello tra Brunori e Persano per la maglia da titolare. A sostituire Sala in difesa sarà invece quasi sicuramente Varrutti al suo debutto come titolare. Il direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci lo ha intervistato per noi. Ascoltiamo intanto le sue dichiarazioni nel servizio realizzato da Riccardo Ciccarelli. Siamo con Michael Varutti che ha con il Ponte d'Era un'occasione e anche un carico sulle spalle. Dovrà probabilmente sostituire Sala nel ruolo di esterno sinistro basso. Sì, quello di sicuro perché come tutti abbiamo visto siamo partiti abbastanza bene per il mister. È bravo a far tenere tutti un po' sulle spine, a portare tutti alla domenica ad essere pronti perché non si sa fino all'ultimo chi potrebbe giocare. Sicuramente lunedì avrò questa possibilità di dimostrare come ho fatto in passato le mie doti, le mie qualità, come penso di aver fatto comunque in quei pochi spezzoni che ho fatto di partita da subentrato. Di sicuro Marco, come gli ho sempre detto, anche lui è un giovane di prospettive importanti perché l'ha dimostrato penso in queste partite qui. Sarà una mancanza importante e spero di superirla tranquillamente io come altri compagni che potrebbero subentrare o giocare al posto di qualcun altro. Quali sono le tue caratteristiche tecniche principali visto che i tifosi di Arezzo ancora ti conoscono poco? Io ho giocato spesso contro l'Arezzo e magari non ci ha fatto caso, però nel senso di per sé sono un terzino più di spinta che di copertura. A me piace comunque andare spesso, andare sul fondo, mettere i cross. Sto lavorando tanto col mister dal punto di vista difensivo perché c'è sempre da migliorare, anche se ho 28 anni c'è sempre da migliorare. Dunque lavoriamo settimana per settimana per migliorare tutti sotto il profilo dei piccoli difetti che abbiamo. Un tuo obiettivo per questa stagione? L'obiettivo è di squadra perché comunque siamo ripartiti alla grande, siamo ripartiti bene, con entusiasmo. Il pubblico ci segue, ci sta vicino ed è una forza in più e penso che in campo si veda. L'obiettivo è pensare a partita per partita e poi vedere a fine stagione dove potremo arrivare. Dimmi qualcosa sul gruppo che hai trovato qui a Arezzo. Il gruppo non c'è niente da dire, siamo un gruppo affiatato, che si sta bene dentro e fuori dallo spogliatoio e penso che nella mia piccola carriera sia la cosa principale a livello di squadra perché tutto quello che fai fuori dal campo lo riporti dentro il campo. Dunque se sei unito fuori, poi dentro il campo ti dai una mano sempre in qualsiasi circostanza. Forza Arezzo! E' inoltre di questa mattina la notizia del prolungamento del contratto del giocatore amaranto Fabio Foglia. Notizia che è stata data al pubblico aretino con un bel video celebrativo pubblicato sulla fanpage ufficiale della società sportiva Arezzo su Facebook. Il calciatore ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori amaranto fino al 30 giugno 2021. Fabio Foglia oltre ad essere al terzo anno in amaranto ha collezionato ricordiamo già 84 presenze con la maglia del cavallino di cui 76 in campionato. Termina qui la prima parte di AC News. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Restate con noi.